Noi faremo la nostra parte, il che significa non tutto, ma la nostra parte. Poche parole dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sul futuro del concorso internazionale di Cantolirico Maria Caniglia, che è rimasto a secco di fondi. Gli organizzatori lo stavano per cancellare, ma l'annuncio di D'Alfonso ha riacceso le speranze. Il governatore non si è sbilanciato più di tanto. Non ha svelato in effetti l'entità del contributo e ancora è da sapere se sarà o meno consistente. Quello che è certo è che la regione Abruzzo tende a sostenere la prestigiosa manifestazione che ha confezionato 33 anni di puro e meritato successo. La nostra parte, il che significa non tutto, ma la nostra parte. Nei giorni scorsi il governatore ha contattato anche il direttore artistico del concorso internazionale di Cantolirico Chetano di Bacco, assicurando una congrua somma per l'edizione numero 34. Arriveranno, stando alle indiscrezioni, anche i fondi regionali che sono mancati lo scorso anno. La cancellazione del concorso Caniglia ha suscitato subito una serie di polemiche e preoccupazioni con il consigliere comunale di opposizione Bruno Di Masci che ha annunciato riportare la vicenda all'attenzione proprio di D'Alfonso e con Andrea Tella, figlio del compianto Filippo, fondatore della manifestazione, che ha puntato il dito contro le istituzioni. Dopo il requiem per il concorso Caniglia arriverà l'acuto finale?